Siamo a Milano, ragazzi, parliamo, penso sia un discorso importantissimo ed è un problema che ho passato anch'io in passato. Oggi parleremo di dismorfia del denaro, probabilmente più di quanto pensate. Tante persone appunto hanno questo problema, magari non ne siete consapevoli, ma oggi lo descriverò e parleremo di problemi che causa, chi lo causa, perché succede, chi sono le generazioni che sono più soggette a questo problema qui. E appunto si verifica quando tu sei, che cos'è la dismorfia? E si verifica quando tu sei insoddisfatto della tua situazione finanziaria, perché hai una visione distorta delle tue finanze. Quindi non è che sei insoddisfatto di quanto fai, sei insoddisfatto perché hai una distorsione dalla società, dal tuo gruppo, da tante cose esterne, magari da un trauma, delle tue finanze e quindi ti porta a fare cose stupide. Non si tratta semplicemente di essere infelici quindi, ma semplicemente della tua percezione. Lascia che te lo spieghi, ad esempio potresti guadagnare 50.000 euro l'anno, quindi sei al di sopra della media italiana, sei in uno scaglione più alto, magari sei finanziariamente responsabile, ma nel posto di sentirti bene, orgoglioso della tua situazione, ti senti inadeguato dal punto di vista finanziario. Questo accade perché magari ogni volta che apri Instagram e social media, vedi vivere tutti quanti una vita di gusto. Stanno tutti in barca, stanno tutti sullo yacht, vedi l'influencer che sta sulla Ferrari e quindi appunto ti pargano in loro e inizia ad avere questa distorsione della realtà. Supponiamo per esempio che tu apri Instagram e vedi foto di persone che stanno a Dubai, a Santorini, a Micono, se così via, ti dicono quanto sono ricchi, quanto questo, quanto quello. C'è sempre qualcuno su una barca, sempre qualcuno su uno yacht e essere esposto ripetutamente a queste cose potrebbe spingerti a pensare che questo è lo standard di vita normale, uno standard di vita che tu non hai e quindi tu ti spingeri a fare decisione del cazzo e cercare di copiare questo standard di vita spendendo soldi che tu non hai. e quindi appunto ti porta al passo con gli altri. Però tu non sai chi sono queste persone, non sai quali sono le finanze, magari sono indebitate fino al collo perché pure loro hanno questa dismorfia delle finanze, però tu poi per questo problema qui, per questo diciamo nuovo standard che ti sei creato in testa, questa percezione, vai a fare esattamente la stessa cosa. Ma cosa causa la dismorfia del denaro appunto? Essendo la percezione è quello che tu vivi, possono essere pressioni sociali, che possono essere social media, può essere il tuo gruppo sociale che può includere amici, familiari, colleghi eccetera, ma anche una crisi economica come la grande depressione, che è un esempio classico. Anche l'educazione ricevuta da bambino o i traumi finanziari da bambini, magari rimanere senza soldi da piccoletto, possono essere cause e piano piano andremo più nel dettaglio a questo fattore. Volevo che tu sei consapevole dei pericoli della dismorfia del denaro. Quando la tua percezione del denaro e delle finanze è distorta, potresti impegnarti in comportamenti malsani. Ecco alcuni esempi. Il primo è che in molti casi la dismorfia del denaro ti spinge a spendere troppo, cedendo alla pressione di impressionare altri, soprattutto persone che manco conosci e così via. Il secondo è che potresti diventare un avaro del cazzo. Io lì ci sono passato da ragazzetto e appunto i bambini cresciuti durante la grande depressione sono l'esempio perfetto di questo problema qui. Hanno visto quanto la vita potesse essere, diciamo, difficile senza denaro e quindi crescendo è diventata per loro un'abitudine risparmiare ogni centesimo fino al livello di quasi malsani, anche quando magari stavano bene economicamente. Questo perché hanno vissuto quella crisi economica, hanno sperimentato un trauma legato alla scarsità di denaro fin da bambini. Io non ho mai avuto un trauma, ma appunto sempre vissuto con la formichina, quando ho iniziato a guadagnare ero fomentato sul mettere soldi da parte. Proprio un paio di mesi di lavoro, quando non uscivo mai, ho realizzato, sì, a me devo, ma tu non esci più come facevi prima. Ricordati che sei un essere umano e piano piano sono uscito da quel fattore lì. E appunto può essere un grandissimo problema. La dismorfia del denaro può anche farti diventare ossessionato dal fare più soldi. Quindi da un lato risparmiare, dall'altro fare più soldi. Questo accade a caso di un senso di inadeguatezza. Queste persone diventano ricche, sanno di essere ricche, ma non è mai abbastanza, sono sempre infelici. Continuano a lavorare sodo, non per passione o gioia, ma perché hanno una visione distorta che non hanno mai abbastanza. Conosco persone così nella mia vita, e forse le conoscete anche voi. Lo spendaccione, l'avaro e il manieco del lavoro. Lascio parlarti di un amico che sembra ricco, ma è al vero. Io sono in America, e questo è uno standard, e avendo lavorato nel settore automotive e vedendo anche le finanze americane, l'ho visto sia da amici, ma anche da persone a cui vendevo macchie. Se guardi su Instagram, queste persone sembrano ricchissime. Vacanze di lusso, ristoranti stilati in Michelin, una vita da sogno, ma delle quinte o non hanno soldi, cioè spendono tutto quello che fanno, oppure hanno un sacco di credi, di debiti. In America è facilissimo le carte di credito e tutto quanto, ma anche in America e in Italia sta arrivando anche questo. Non ha beni né soldi e dice sempre Amedeo, non far sapere la gente che suona al verde è imbarazzante. Cioè faccio vedere questo stile di vita, ma è imbarazzante che ho uno stile di vita, ma non ho nulla su cui diciamo ricadere, perché se tutto questo crolla non ho nulla sotto il Pontus. Che appunto vuole apparire come se la sua vita fosse ricca e glamour, ma alla fine non rimane niente, e quindi non è sostenibile a lungo termine, oltremmeno può galleggiare a lungo termine, ma quando piano piano le energie sono sempre meno e la sua forza di guadagnare inizia a abbassarsi, potrebbe essere un problema. C'è anche l'amico Avaro, questa è una storia vera, era un'amica, mettiamola così, non me la sto inventando. Era a cena fuori con amici e appunto aveva un gruppo di amici al ristorante, si voleva fare alla romana che tutti quanti pagavano equamente, e lei che non è che guadagnava tantissimo, però i soldi ce l'aveva, la casa l'ha pagata, che se ne frega, mi ricordo la sua frase, io ho preso solo l'insalata e il bicchiere d'acqua, quindi per me sono 12 dollari e 50, mentre tutti gli altri erano pronti a mettere la stessa cifra, che erano 15 dollari a testa, per pagare la romana. E invece lei insisteva per pagare esattamente ciò che aveva consumato, anche se si trattava di pochi euro. Cioè non c'è nulla di male a essere precisi ragazzi, ma non è che per quei pochi euro ti cambia veramente la vita. Se andare a mangiare fuori ti cambia la vita, allora non uscire, quella è la mia idea. Cioè se veramente non ce la puoi fare, dice ragazzi, non ce la posso fare, non c'è nulla di sbagliato, oppure ti inventi una scusa che ti dà fastidio e non esci proprio. Ma se pensi che 2 dollari non fanno niente, allora lascia perdere. Come vedevate fare così perché c'era gente che entrava, io sto cercando di fare tutto quanto, è una botta. Però infine ragazzi abbiamo l'amico Manievo del lavoro. Questo è un ragazzo che era uno dei primi ragazzi che ho conosciuto, conosciuto in America, ed era maniaco. Aveva 25 anni, valeva già milioni di dollari grazie alla famiglia, aveva abbastanza soldi per adagiarsi sugli allori e non c'è nulla di male avere la fame, ragazzi, ma si sentiva di dover continuare a lavorare come un pazzo 60, 70, 80 ore a settimana. Era nel settore finanziario, non stava facendo nulla di rivoluzionario o utile per l'umanità, perché la finanza, proprio questo era tanti anni fa, ormai quei lavori stanno piano piano venendo rubati dall'intelligenza artificiale, voleva solo soldi, non aveva tempo né per la ragazza, che poi dopo l'ha lasciato, né per la famiglia e neanche per hobby. Quindi lui lavorava e basta, ma in realtà non faceva un cazzo di bello neanche per se stesso. Quando ci vedavamo per pranzo, passavamo il tempo insieme, parlava solo di lavoro, investimenti, produttività e strategia e miglioramento per l'efficienza, che a me piace parlare di stagione dei ragazzi, ma non 24 ore su 24. E poi appunto quando si lasciò con la ragazza, venne da me piangendo, ma anche lì parli di quella situazione per 5 minuti e poi dopo tornava a parlare di lavoro, quasi come una macchina. Honestamente credo che la dismorfia del denaro possa portare a comportamenti pericolosissimi, anche per la tua salute. La vedo come distorsione dell'immagine corporea, ragazzi, anche se una persona in salute potrebbe dire che sono troppo grasso e diventare anoressica, o al contrario potrebbe dire che non ho mai il fisico e abusare di steroidi, altra cosa famosissima in America. Molti dei corpi che vedete pompati sono anche pieni di steroidi. Questo è pericoloso e lo stesso vale per il denaro. Potresti stare bene, ma se hai una visione distratta da realtà potrebbe portarti a comportamenti veramente dannosi. Chi è colpito da questa dismorfia del denaro? Ragazzi, colpisce le persone di tutta l'età, ma i giovani sono i più a rischio. Secondo lo studio di Qualtrics, che è una roba che ho citato da un altro youtuber, il 29% dei americani soffre di dismorfia del denaro, 41% dei millennial e 43% della generazione Z ne soffrono. Si soffronizza che più millennial, cioè si soffronizza praticamente che i millennial generazione Z siano colpiti a causa della maggiore utilizzo dei social media che consumano, e spesso i social media, cioè gli influencer o sono indebitati, o ci avevano già soldi, oppure appunto hanno stili di vita che hanno creato magari crescendo questi social media, però essendo popolari sui social media vedi solo loro e quindi pensi che quello sia il tuo standard. Questo ragazzi appunto potrebbe essere un problema. Attenzione se avete figli piccoli da generazione Alfa, perché appunto attenzione ai contenuti che vi fate vedere. Se i tuoi figli parlano di Gucci, Lamborghini, Bugatti, può sembrare divertente, ma l'unica ragione per quale conoscono questi brand è perché hanno sentito abbastanza ad essere impresse ai loro menti. Questo tipo di contenuto potrebbe essere pericoloso mentre sviluppano la loro relazione con il denaro. L'altro giorno sentiva un bambino, appunto, era stamattina a Milano, papà non sei figo abbastanza, quello lì c'era Lamborghini, c'hai capito? E il papà ovviamente l'ha preso sul personale, si è preso a male, però attenzione a quello che ha fatto vedere i figli, perché vedere quello, vedere, accettare quello come normalità, poi ti può portare alla dismorfia del denaro. Come si può superare la dismorfia del denaro se sei più grande? Ci sono diverse cose che puoi fare. La prima è smettere confrontarti con gli altri, che ovviamente è più facile a dirsi che a farsi, ma davvero il confronto è il lato della gioia. Quando si parla di denaro ci sarà sempre qualcuno a più soldi di ritencia, anche Jeff Bezos è ricco, ma c'è anche qualcuno più ricco di Jeff Bezos. E quindi, a chi se ne importa? C'è poco che tu puoi fare, la cosa migliore che puoi fare è concentrarti tu te stesso. È normale compararsi, ogni tanto per vedere dove sei nella vita in generale, vuoi vedere i dati generali, le medie, le cose, giusto per vedere come sei messo, però farlo in modo costante è un problema. Anch'io lo faccio con altri influencer, vedo qual è la loro crescita, come stanno andando, magari prendo spunto, ma alla fine il mio focus di tutto quanto sono i miei dati, come sto andando io, quello che penso ai miei follower, quello che commentano, è veramente importante. Quindi, non sto dicendo che devi essere compliacente a contentarti, magari prendi ispirazione da altri, però devi concentrarti tu te stesso, ragazzi, migliorarti e far parte con il tuo percorso. E per favore, non ti far ingannare da ciò che vedi i social media. Ripeto, io vendevo Lamborghini. Una grandissima parte dei Lamborghini vendevano persone che erano indebitate, oppure aziende che affittavano macchine. Molte Lamborghini che vedete spesso sono sempre la stessa che viene affittata e rimostrata più volte da sempre le stesse influencer. Il secondo passo per superare la dismorfia del denaro è migliorare la tua alfabetizzazione finanziaria. Scusatemi, ma sono dislessico pure io. Se non sai nulla di denaro, bilancio e investimenti sarai più suscettibile a essere influenzato negativamente a sviluppare una percezione distorta del denaro. Se tu capisci come funziona il mondo, come funziona il denaro, come funziona gli investimenti, sarai anche più tranquillo a navigare quel mondo e magari migliorarti la tua vita ulteriormente. E anche capire perché c'è così tanto consumo, come fa la gente a consumare queste cose, appunto, col debito. Se capisci come funziona il debito, capisci molte cose. E io in questo posso aiutare. Ho creato un'enciclopedia con le basi della finanza generale e poi tutti i prodotti finanziari disponibili agli italiani e se andate nel link qua sotto nella caption lo troverete la prescrizione con lo sconto ulteriore. La guida costa meno di una serata in discoteca, soprattutto con lo sconto se siete prescritti, quindi prescrivetevi. In più, ragazzi, la guida dipende anche da voi perché questa è una versione 1. In base al vostro feedback aggiungerò altre lezioni. L'idea è fare un'enciclopedia che ho iniziato io ma che continuerò grazie al vostro feedback. Quindi non solo sarete studenti ma sarete anche parte di un ecosistema che può aiutare migliaia, decine e migliaia di altri italiani a un prezzo veramente abbordabile per tutti quanti. Questo qua, detto questo, ragazzi, volevo soltanto portare questo argomento all'attenzione per aiutarvi e faccio il tifo per tutti voi. So che siete molti che ne soffrite, magari non ne siete consapevoli, è un'insicurezza grandissima, soprattutto in un paese dove il denaro è visto come diavolo e non come strumento per diventare liberi e che i social compano messaggi del caso. Detto questo, spero di vedervi nel prossimo video. Fatemi sapere il vostro feedback, cosa ne pensate e ci vediamo alla prossima. Ciao!